Buongiorno a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra rassegna stampa. Subito in onda le immagini girate qualche ora fa nel cuore della notte a Campobasso in via Garibaldi, ecco le fiamme che stanno divorando i magazzini di un locale commerciale del capoluogo. C'è stata tanta paura nella zona, l'odore acre del fiume ha invaso mezza città, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, una pattuglia dei carabinieri, hanno lavorato diverse ore per spegnere le fiamme. Ora ovviamente sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto. Invece a proposito di Covid ci occupiamo dell'ultimo bollettino, il contagio sembra fermarsi per il momento e c'è soltanto un nuovo positivo. Dopo l'impennata delle scorse ore aumenta ancora la curva del contagio da coronavirus, sebbene con numeri più tenui. Dagli ultimi 232 tamponi processati è emerso un nuovo caso, è una persona di Termoli, di giovanetà, riferimento del cluster Grecia scoppiato qualche giorno fa nella città adriatica. Salgono quindi a 65 gli attualmente positivi in Molise, 36 a Campobasso, 5 a Isernia, 6 a Termoli, 5 a Campomarino, 4 a Santeria a Pianisi, 2 a Campolieto, 2 anche a Forli del Sannio e poi un caso rispettivamente per ognuno di questi comuni, Ferrazzano, Filignano, Ripalibosani, Macchiagodena, Montaquila. La maggior parte, 62 persone, è asintomatica, mentre tre pazienti sono ricoverati in malattie infettive. Sono attesi i risultati degli ulteriori tamponi effettuati a tutti i contatti dei 9 positivi emersi nelle scorse ore. In quarantena ci sono 128 persone. E sempre a proposito di Covid parliamo nel prossimo servizio dell'avvio del nuovo anno scolastico. C'è stato un vertice tra il Governo e le Regioni. Donato Toma, Presidente del Molise, ha detto che bisogna accelerare. Sono diversi i nodi da sciogliere su tutti la gestione di eventuali casi e soprattutto il trasporto degli alunni. Il Governo accelera sulle linee guida per la riapertura delle scuole. Nelle scorse ore il vertice è in videoconferenza con Regioni e denti locali, convocato dal Ministro degli Affari Regionali Boccia con i Ministri Azzolina, Speranza e De Micheli. Hanno partecipato anche il Capo della Protezione Civile Borrelli ed il Commissario Arcuri. Tra i nodi da sciogliere un protocollo unico per la gestione di eventuali casi di Covid all'interno delle scuole. Il documento dell'Istituto Superiore di Sanità sulla gestione di eventuali casi è robusto e strutturato, vale come protocollo condiviso da adottare in tutto il Paese, ma resta un testo aperto che sarà valutato nelle prossime ore dalle Regioni, prima della conferenza unificata di venerdì. Un vademecum, ha detto il Ministro Speranza, per l'apertura delle scuole, che può essere sempre aggiornato con l'esperienza sul campo. A me sembra da una prima lettura un protocollo molto dettagliato, molto interessante, su come si gestiscono ingressi e permanenze nelle scuole, come si gestiscono i casi sospetti e come si gestiscono i casi conclamati. Per cui penso che siamo sulla via giusta. Senta, Presidente, controllo della febbre a casa. Lei chiede qualcosa di diverso, magari a scuola? Guarda, noi ci auguriamo di trovare un metodo che i presidi e le strutture scolastiche trovino un metodo un po' più rassicurante, che è il controllo all'ingresso della scuola. Però capisco pure che laddove entrano migliaia di studenti ci vuole qualcosa veramente di innovativo. Questa è una delle soluzioni work in progress, come si suol dire, che si stanno ricercando. Presidente, trasporto, il CTS sta valutando varie possibilità. Lei intanto però ha scritto a tutti i sindaci del Comune per censire eventuali problematiche, per aiutare i sindaci a risolverle. Sì, io mi sono portato avanti col lavoro, come si suol dire. Ho chiesto ai sindaci, con una missiva che ho firmato ieri, quali fossero le esigenze del trasporto locale, quelli che noi chiamiamo gli scuola bus, se avessero bisogno di acquisire ulteriori servizi di trasporto e quali erano le esigenze in relazione all'adeguamento delle classi alle misure Covid. cosicché possiamo utilizzare una buona dotazione di fondi che abbiamo messo da parte. Bene, adesso leggiamo primo piano Molise. Virus frena il contagio, solo un nuovo caso. È una giovane donna di Termoli legata al cluster di rientro dalla Grecia. Atteso oggi l'esito dei numerosi tamponi eseguiti su familiari e contatti dei nuovi positivi resi noti martedì. Nel paese intanto è boom di malati, 1.367 in 24 ore. E si contano anche 13 decessi. Calano i ricoveri. Il punto a firma di Pierluigi Giorgio Molise, terra di gente dal cuore enorme. Trivento, rubinetti a secco, carabinieri sulle tracce del sabotatore. Campomarino preso martedì dopo la caccia all'uomo, ieri rimesso in libertà. L'intervista sullo spopolamento, la guerriglia di Don Alberto Conti che riaccende la speranza. A centropagina questa immagine emblematica del rogo, esploso ieri in lungo via a Colonia Giulia a Venafro. Un appartamento è stato distrutto dalle fiamme. L'inquilino era uscito da poco, incendio è innescato da una ciabatta elettrica. Invece alla Sevel, un 54enne di Petacciato è stato travolto da un camion. Scuola, vertice, governo, regioni non c'è intesa. Servono ulteriori fondi per implementare i trasporti. Tom ha perso troppo tempo, è necessario recuperare. Ricerca il neuromed a capo di uno studio nazionale. L'idrossiriclororichina riduce la mortalità nei pazienti ospedalizzati per infezione da Covid. Lo sport con i lupi e la trattativa che prosegue con Sforzini. Entro fine mese arriveranno tre calciatori under. Bastogirardi, il club giallo-blu, tessera il quindicenne, fraraccio. Calcio a 5, la Chaminade prende Lalli e Ferrante. Spostiamoci sul messaggero. Il bonus durerà tre anni. Il viceministro Misiani, useremo i fondi dell'Europa, è una scelta strategica. I congedi Covid e l'assegno da 600 euro saranno finanziati utilizzando il programma Assure. Separatori di plastica sugli scuolabus per evitare il collasso dei trasporti. È arrivato il via libera dell'esecutivo all'accordo Team CDP sulla rete unica. Il piano del governo, un sottosegretario con poteri su Roma. Manca un candidato vincente per il Campidoglio. Il PD a Palazzo Chigi rispolverano il progetto 2009. Ponza esplode, la barca vivi per miracolo. Il rifornimento in porto, poi il boato. Famiglia finisce in mare. Andiamo ora invece sul Corriere della Sera. Scuola a caos nelle misure. Crescita dei contagi, 1.367 in un giorno, ma c'è stato anche un record di tamponi. Intervista con Di Maio, legge elettorale, entro l'estate. A centropagina, Wisconsin, due morti. Scene da guerra civile. L'afroamericano ferito dalla polizia e l'NBA pensa di fermarsi. La Repubblica, la scuola, resta a piedi. Nessun accordo, governo Regioni, per il trasporto degli alunni. Impossibile garantire il distanziamento. Il Comitato Tecnico valuta un allentamento delle regole. Scontro, Speranza dei Micheli, contagi a 1.367. Anche i governatori Demma all'attacco daremo la colpa a Roma. A centropagina, nell'incidente in galleria, la chiave del mistero, si parla del giallo di Viviana e Gioele. C'è il racconto all'interno del quotidiano fondato da Scalfari, che appunto punta su quanto accaduto in galleria. Scontri razziali, 17enne, bianco, spara e uccide due manifestanti. Poi i Rossellini, una famiglia nel nome di papà, messi in Barcellona, se un fax cancella, 20 anni d'amore. Il fatto, i banchi arrivano, trasporti in ritardo, apre dunque con la scuola, la De Micheli e le regioni ancora in alto mare. Altro che azzolina, le consegne da domani, a buon punto le sedie esterne per garantire le distanze. Confusione sui mezzi di trasporto, sicuri per gli alunni. Andiamo sul Sole 24 Ore. All'Italia, perdite a ciclo continuo. Non ancora costituita la nuova società destinata a provare il rilancio. Al lavoro sulla separazione tra gestione dei voli, servizi a terra e manutenzione. Rete unica, TLC, Tm e CDP stringono su quote. E governance, incontro, gubitosi Palermo, UE, seguiamo da vicino, in borsa Telecom vola a più 5%. Scuola nulla di fatto sulle regole per trasporto pubblico e mascherine. De Micheli propone considerare congiunti i compagni di classe. Poi boom di tamponi con i rientri. I nuovi contagi salgono a 1.367. Emergenza, coronavirus. Si torna dunque a parlare appunto di emergenza. Andiamo in chiusura con la Gazzetta dello Sport. Pirlo Conte, caro amico, ti sfido. Prima alleati, adesso rivali. Juve Inter è cominciata. Sacchi li giudica. Andrea è un rischio che mi fa felice. Antonio invece ha fatto un buon lavoro. Chaos, Messi, Muro, Barcellona, Ma, Pep chiama, City favorito. Inter e Paris Saint Germain rincorrono. Sarri, 10 flash di un divorzio quasi annunciato. Poi arriva McKennie, primo americano per la signora. Milan Ibra sbarca nel weekend, ora tocca a Gigio. Prima di salutarci vediamo anche quali sono i programmi che andranno in onda oggi sulla nostra rete. A partire dalle 11, Paese Mio, 12.30, Viva la Musica, alle 14 il Tg. Alle 16, Punto Verdi. Alle 17.30, Camminando Molise. Alle 18.30, Dianne Cronos. Alle 19.30, Torna in diretta l'informazione con Valentina Ciarlanti. Alle 21.00 sarà il momento di Molise Sport di Franco Presutti. Alle 23.00 l'ultimo appuntamento con l'informazione. È tutto anche per questa mattina. Grazie come sempre per averci seguito. Ci vediamo alle 14.00 con il telegiornale. Intanto, buona mattinata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti